Salve, buonasera a tutti e benvenuti al primo appuntamento del nuovo mese di agosto. Agosto che praticamente come da consuetudine è un mese un po' particolare per chi fa trading da un bel po' di tempo, nel senso che i mercati in questo periodo, nel periodo delle vacanze estive, i mercati tendono a lateralizzarsi, tendono un po' a fermare i propri movimenti di trend, quindi risulta in pratica un po' difficile operare in queste giornate, però noi siamo sempre sul chi va là e vediamo un attimo, se ovviamente ci sono delle ottime indicazioni per poter andare al mercato le andremo a sfruttare, però ovviamente dobbiamo avere, anzi devo avere per chi anche esegue la mia operatività una maggiore attenzione soprattutto perché per evitare passi farsi, quindi bisogna stare molto molto attenti. Bene, ma vediamo che cosa è successo per quanto riguarda però le borse europee, oggi hanno chiuso appunto la prima giornata del mese di agosto in territorio negativo all'indomani della pubblicazione dei risultati degli stress test sul comparto bancario di Euroland, in particolare come ben sappiamo per quanto riguarda il sistema bancario italiano abbiamo la Monte Paschisiena che alla fine è la banca più antica del mondo che purtroppo non ha superato gli stress test, quindi si stanno adoperando delle misure atte per poter far fronte al problema. Il DAX è chiuso a più 0,04%, l'Ibex a meno 0,68%, il CAC di Parigi a meno 0,55%, il FUZI Londra a meno 0,30% e chiude la peggiore performance della giornata, il FUZMIB a meno 1,73%, ciò appunto come dicevo prima tale movimento, tale chiusura negativa da parte del FUZMIB è dettata, soprattutto è trascinata, è trainata dalle cattive indicazioni provenienti appunto dal comparto bancario. Per quanto riguarda gli market mover più importanti, ne abbiamo oggi, c'è stato solo una indicazione proveniente dagli Stati Uniti con l'indice ISM manufatturiero che scende più del previsto nel mese di luglio, attestandosi a 52,6 punti. Il dato precedente era risultato pari a 53,2 punti e gli analisti avevano stimato per 53,1 punti. Mentre domani, per quanto riguarda i market mover più importanti, abbiamo una giornata abbastanza presa dai vari notizie macroeconomiche, si parte appunto alle ore 3.30 di questa notte con la bilancia commerciale australiana, poi passiamo alla Nuova Zelanda con alle ore 5 con la banca nazionale del paese che si concentrerà sulle aspettative sull'inflazione. Poi l'avvenimento clu della giornata poi si ha alle 6.30 dall'Australia con la decisione dei tassi di interesse da parte della banca centrale, della RBA, banca centrale australiana e poi chiudiamo la giornata direttamente alle 7 di mattina con la fiducia dei consumatori. Quindi alla fine vedete che la maggior parte delle indicazioni dei market mover sono tutti riferiti alla sessione asiatica ed australiana. Adesso invece vediamo un po' che cosa è successo oggi per quanto riguarda i mercati, mercato forex partendo dall'euro dollaro. Bene, l'euro dollaro in pratica vedete il movimento è stato un movimento blando, un movimento a correzione delle ultime tre giornate rialziste che hanno accompagnato le ultime tre sedute, quindi esattamente mercoledì, giovedì e venerdì del mese di luglio. Oggi c'è stata questa correzione in atto, è ancora in atto e il prezzo si mantiene in area 1,11 e 60, adesso siamo a 1,11 e 66. Se ci spostiamo sull'H4 vedete abbiamo su questo massimo, proprio al di sopra 1,11 e 70, proprio precisamente, il prezzo sta, la coppia sta tentando di lateralizzare, infatti sono 1,2,3,4,5,6,7 candiere da 4 ore, quindi 7 per 4,28 sono circa quasi un giorno e mezzo dove praticamente le candele in movimento tende a lateralizzarsi con però le ultime due con un evidente movimento short, cioè dettato anche dalle medie che uso, che sembra che vogliono praticamente, si sono riportate al di sopra le candele e sembra che vogliono virare verso il basso. Lo stocastico rimane sempre in area per comprata, al momento non si muove, però a questo punto stiamo alla finestra per poter vedere se è possibile in settimana entrare a mercato short. Bene, passiamo al dollaro Yen, benissimo, per quanto riguarda il dollaro Yen, invece, anche qua c'è una piccola correzione del forte movimento short che si è avuto venerdì, dato dalla Boge, ed sul quattro ore invece abbiamo, vedete qui, abbiamo una butterfly realzista. Siamo in quest'area, però al momento sinceramente non ho ancora le indicazioni da parte dell'azione del prezzo per poter impostare un'operazione long, anche perché sembra che, se vado ad allargare un po' più il grafico, proprio sull'H4, vedete, il prezzo tende a lateralizzarsi, eppure, vedete, le medie qua si sono riportate al di sopra e stanno praticamente muovendosi, avendo una inclinazione più realzista. Vediamo nei prossimi giorni cosa succede e poi decidiamo sul da farsi. Mentre, per quanto riguarda il cable, la situazione, vedete, è piatta, quindi non passo avanti. Ora vi voglio far vedere l'unica operazione che in pratica abbiamo a mercato, Aud New Zealand, che oggi ha guadagnato un po' di punti, li ha guadagnati, vedete, siamo adesso esattamente, adesso vado a vedere, a 61 punti di profitto, quindi non male. Quella che avevamo invece su, praticamente, su l'altra operazione Euro New Zealand, che avevamo ancora aperto, che avevo lasciato aperto, queste due Euro New Zealand e poi questa qua, New Zealand, questa qui che praticamente sta ancora a mercato, invece Euro New Zealand, in pratica, proprio all'atto dell'apertura delle borse, dei mercati ieri sera, in pratica è andato a colpire lo stop loss che avevamo portato al break even, quindi l'operazione si è chiusa proprio in parità, senza perdere niente. E qua invece siamo a 61 punti, bene, ho messo il target a 120 punti, quindi praticamente siamo quasi a metà del nostro viaggio, già ho spostato lo stop loss, vedete, di 20 punti, approfitto, quindi praticamente vediamo un attimo se riusciamo a raggiungere il primo target del mese di agosto, anzi a cavallo tra il mese di agosto e il mese di luglio, però in modo tale iniziamo un po' a brindare anche il mese di agosto, quindi iniziamo a mettere qualcosa in cassa. Ora vediamo invece altre, già ho notato prima, altre due cose abbastanza importanti da poter monitorare nelle prossime sedute. Allora, lo scenario che vi voglio mostrare su USDCAD, dove, attenzione, praticamente raggiunto questo massimo, il prezzo praticamente è iniziato a stornare verso il basso, ok? Ora, oggi c'è stato questo ritracciamento, ovviamente un ritracciamento più che altro fisiologico, dopo questo movimento short, che ha spinto il prezzo in totale di circa 1,240 punti. Adesso si è portato, vedete, 1 sopra 1,3082, però la mia idea è questa, io voglio attendere la fine del ritracciamento per poter reentrare nuovamente short, anche perché le indicazioni, vedete, sono sempre short, anche lo stocastico mi evidenzia un'inclinazione short, la stessa cosa per le medie, la stessa cosa, vedete, sull'H4, sull'H4 quindi è abbastanza interessante la situazione, perché molto probabilmente il movimento di fondo è short, qua abbiamo una correzione, attendo alla fine della correzione, vedete anche l'RSI si trova in zona ipercomprata, quindi molto probabilmente se rimaniamo così domani avremo il primo movimento ribassista, quindi vediamo un attimo cosa succede domani per poi decidere per entrare al mercato. Io ritengo che questo movimento potrebbe essere rappresentato da una falsa rottura di 1,3082, quindi non praticamente escludo la possibilità di un ingresso al mercato diretto anche stasera, a mezzanotte oppure stanotte. Poi passiamo a New Zealand Dollaro, New Zealand Dollaro ho sbagliato, eccolo qua, questo è New Zealand Dollaro, anche qua vedete abbiamo una situazione abbastanza interessante, un possibile operazione short, a rottura del minimo di oggi, vedete qua abbiamo una falsa rottura di 0,71,93, vedete come il prezzo ha chiuso venerdì al di sopra 0,71,93, però oggi subito sono intervenuti, anche se in maniera abbastanza leve, però sono intervenuti i venditori. La stessa cosa vedete sull'H4, si mantiene short, vedete come si mantiene al di sotto 0,71,93, quindi l'idea in questo momento è questa, quella di posizionare un'operazione short, però dobbiamo un attimo vedere come chiude la candela, se chiude al di sotto, quindi 0,71,93, quindi ci sono tutte le premesse per poter piazzare un ordine di vendita. Adesso invece passiamo all'EuroCAD, allora, EuroCAD, eccoci qua, anche qua abbiamo una zona dove, attenzione per un possibile short, per quale motivo? Allora, lo stocastico si trova in zona ipercomprato ed qui abbiamo un'indicazione importante per uno short, però attenzione, proprio nell'ultimo momento il prezzo sembra che vuole continuare questo movimento rialzista, quindi io aspetto un mio movimento dettato da un mio pattern non convenzionale, però attenzione, l'area, la zona da tenere sotto controllo è proprio 1,45,92, secondo me sotto 1,45,92 si può andare benissimo short con un target in prossimità al di sopra, giusto di sopra di 1,42,92, andiamo a vedere un attimo lo spazio, quanti sono? Bene, non male, perché sono 280 punti circa, quindi praticamente diciamo anche 250 punti per un'operazione del mese di agosto è più che va bene, diciamo un'ottima operazione. Quindi a questo punto che fare? Bisogna attendere quello che succede in area 1,45,92, quindi dobbiamo attendere la rottura di nuovo, nuovamente a di sotto 1,45,92. Bene, diciamo che gli scenari nuovi sono questi tre, tutte e tre short su USDCAD, New Zealand Dollaro e EuroCAD. Aspettiamo cosa succede, anche perché dobbiamo fare molta attenzione perché come dicevo prima il mese di giugno è un po' particolare dal punto di vista operativo, però stiamo sempre su chi va là, appunto perché nel caso in cui ci sono degli ottimi movimenti short sicuramente li andrò a sfruttare. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, qualcuno di voi penso molto sicuramente già sarà in vacanza, però diciamo male non si fa se per esempio stasera giusto in 10 minuti riuscite a vedere il mio video, anche perché diciamo ogni volta ci sono anche, io li dedico anche delle pillole di analisi, pillole di studio di vari case study dove praticamente ognuno poi di volta in volta potrà imparare i vari trucchi del mestiere. Bene, grazie mille per l'attenzione e ci aggiorniamo a domani sera.